Il Consiglio regionale ha respinto la mozione presentata da Paolo Romano del PD e firmata da diversi colleghi dell'opposizione sul tema della sicurezza stradale. Abbiamo presentato una mozione su quello che noi chiamiamo il nuovo codice della strage, cioè la riforma del codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini, che fa tutto quello che la scienza e le associazioni che rappresentano le vittime di morti in strada dicono di non fare. Rende più difficile mettere un autovelox, rende più difficile fare rispettare i limiti di velocità, permette in molti modi di limitare le strutture che i comuni possono utilizzare per limitare la velocità, dalle ZTL alle aree 30. In poche parole fa sì che in un paese che ha già il maggior numero di morti in strada rispetto al resto d'Europa sia purtroppo ancora più facile morire. 3.000 persone all'anno, questo è il numero delle catombe, delle persone che perdono la vita in incidenti stradali in Italia. le famiglie di queste persone sono venute nelle piazze dalla politica a dirci basta e per questo oggi chiediamo un passo indietro. Diversi gli impegni che la mozione rivolgeva alla giunta regionale. Prima di tutto fermare questa riforma scellerata che rischia di aumentare i morti in strada. Poi ci sono alcuni interetti specifici che vanno fatti. Penso ai grandi centri urbani dove deve essere obbligatorio il sensore per l'angolo cieco, per i tir, perché tantissimi motorini e biciclette sono stati investiti e persone hanno perso la vita a causa di questo sensore mancante che non permette a questi grandi tir di vedere l'angolo cieco. Penso al fatto di rendere più facile, non più difficile, la realizzazione delle piste ciclabili e di mettere quei fondi che ad esempio Regione Lombardia ha tagliato nell'ultimo bilancio e che noi chiediamo di reintegrare e di utilizzare per rendere sicuro il bike to work, cioè l'unica cosa che sostituisce davvero l'utilizzo del mezzo privato, un percorso da casa a lavoro che permetta di andare in bicicletta. E ancora c'è il fatto di ottemperare gli obiettivi del piano sulla sicurezza stradale 2030 che chiedono di moderare la velocità e di rendere più facile l'intermodalità, ad esempio tra i mezzi pubblici e le bici, al posto che continuare a rendere più facile andare veloce e quindi purtroppo più probabile che qualcuno perda la vita. La decisione del Consiglio ha fatto seguito a un lungo dibattito con, tra i tanti, Chiara Valcepina di Fratelli d'Italia che ha ritenuto che il documento segua un approccio ideologico e non tecnico con Alessandro Corpetta, capogruppo della Lega, che ha sottolineato che la riforma varata dal governo nasce dalla necessità di inasprire le sanzioni e introdurre delle regole dove non ci sono, per esempio sul tema dei monopattini. E, infine, con Carmela Rozza del PD che ribadisce che, queste le sue parole, la riforma è un provvedimento fatto per lucrare voti, non per garantire i cittadini e la loro sicurezza.